be safe be rock ciao e bentornato qui dove essere rock vuol dire avere a cuore la nostra vita e soprattutto quella degli altri e questa è un po la missione di rock and safe dove cerchiamo di da andare al succo al nucleo della sicurezza e principalmente sul lavoro ma insomma nella società in genere prima ancora delle importantissime leggi perché quando capisci che non stiamo scherzando stiamo facendo un gioco a dama ma stiamo parlando della nostra vita innanzitutto la vita degli altri beh insomma che sia osservare una determinata regola piuttosto che adeguare un macchinario diventa una cosa prevalente e noi puntiamo a risvegliare certamente e ispirare chi si occupa di queste materie con l'obiettivo di puntare al benessere dobbiamo avere questa visione in cui noi lavoriamo stando stando bene che penso sia un requisito di base ma ahimè così complicato da perseguire e raggiungere questo dà per scontato un qualche cosa che la vita umana deve rimanere intatta ahimè tre famiglie al giorno perdono la vita e quindi le da fare ce n'è tanto non è una questione di rispettare o meno la legge prendere la multa o meno è che noi dobbiamo fare in modo che queste vite restino attaccate alle loro famiglie che continuano a portare gioia così non è stato con l'ospite di oggi che io ringrazio sin da subito per la sua partecipazione perché ahimè dal 2019 ho letto un trafiletto nelle sue tante dichiarazioni in cui dice in fondo al processo ci sono state diverse sanzioni condanne opinabili ma il vero ergastolo lo vivrà per la vita la famiglia la famiglia di gabriele di guida che a 25 anni ha perso la vita incastrato a un macchinario ne parleremo con la madre ester intini che da allora dato vita a un progetto che è gabrie nel cuore buongiorno buongiorno essere grazie innanzitutto di essere qui con noi bene insomma inevitabile domandarti cosa per quanto ci si possa immaginare però solo quando lo vivi la perdita di un figlio che è uscito per andare al lavoro e non è tornato più solo solo chi lo vive lo può veramente raccontare sì sai ogni lutto è a sé ogni mamma lo vive a modo suo quindi io la cosa di cui sento sempre molto attenta e non mettere le mani nel lutto di altre persone perché siamo guarda noi siamo in tre in famiglia e abbiamo avuto un'elaborazione differente quindi figuriamoci le persone che avere molto rispetto in queste cose importante rispetto anche nel parlarne il fatto di essere riuscita in qualche modo a reagire a questo lutto non mi rende migliore e questo ci tengo sempre a dirlo perché non sono migliore di chi invece ha deciso perché così se la sente di stare in un angolo a piangere io non ho pensato che mio figlio non mi volesse in un angolo a piangere e quindi ho cercato di renderlo al mondo che non ha saputo apprezzarlo ecco io l'ho interpretata così gabriele era un ragazzo pieno di vita 25 anni ma era proprio caratterialmente pieno di vita e non potevo sottrarlo a questo mondo che lui si è costruito di stima di affetto degli amici soprattutto tutti questi ragazzi che da subito giorno stesso della dell'incidente erano fuori con me ad attendere l'uscita di gabriele dalle 10 del mattino fino alle cinque e mezza di pomeriggio quindi mi sono un po investita di questo ruolo senza neanche accorgermene poi perché in quei momenti non è che puoi essere proprio razionale però il vedere tanta gioventù che poteva essere al posto di mio figlio quindi nel pericolo ha fatto sì che in me scattasse questo questa voglia di continuare a crescere il mio gabriele continuare a parlargli come se fosse presente e non come se fosse un'entità che gira intorno a noi e restituirlo veramente a questo mondo che non ha saputo come ho detto prima apprezzare ciò che lui era e quindi possiamo dire che l'ha l'operato anche di gabriele nel cuore insomma c'è un pezzo di lui che è qui insieme a noi per darci una mano a uscire da insomma purtroppo una cultura che ancora tra l'altro da quello che ho letto un ragazzo intraprendente perché ci aveva messo poco a diventa avere anche un ruolo di responsabilità all'interno di quell'azienda insomma molto in gamba assolutamente sì non stento a crederlo perché comunque gabriele era molto vivace un ragazzo molto intelligente che apprendeva in fretta che si prendeva soprattutto le responsabilità di quello che faceva io ricordo un articolo dei datori di lavoro dove scrissero che avevano individuato il soggetto molto molto sveglio quindi io li ringrazio da un certo senso però insomma i ragazzi vanno formati cioè l'intelligenza non basta se non la sai applicare giusto cioè poi insomma insomma pur non essendo un apprendista era in prova avrebbe avuto la conferma imminente magari appunto da un lato complimenti non in un mese e mezzo diventare responsabile capo macchina ricordiamo era un macchinario che verniciava le lamiere destinate poi a realizzare le lattine magari appunto come hai appena detto te essere un bisogno non basta essere brillanti bisogna avere anche una preparazione che quella tra da soltanto la formazione se vogliamo anche il tempo assolutamente sì io adesso mi sono poi messa a studiare quindi sono formatore della sicurezza della cultura della sicurezza quindi tante cose che non sapevo ho imparato e quindi mi permettono di parlare un po più cognizione di causa quindi è la mamma che aveva intuito e che adesso studiando avuto le conferme no anche io reclamavo a gabriele ma non ti hanno fatto una visita medica perché sei a contatto con dei solventi quindi già quello mi dava da pensare no da mamma io pensavo alla salute ma la salute è correlata alla sicurezza tuttora esatto l'ho imparato poi a mie spese ma soprattutto a spese di gabriele e dopo quindi io allora dici ma una visita medica si dopo me la faranno poi scopri che dai tutto ciò che è stato sequestrato dalla ts questa visita medica non era che su un foglio excel che non posso sapere quando sia stato compilato con data 12 aprile quindi due giorni dopo e due giorni dopo l'incidente noi eravamo dietro un vetro a riconoscerlo il nostro figlio quindi in sicurezza in curia superficialità hanno fatto veramente un disastro io ho anche pena credimi per per queste persone perché una ditta di 80 anni quindi con un passato importante una famiglia che porta avanti la generazione non può lavorare con questa con questa superficialità io non ho non ho provato rabbia non ho provato rancore però un certo senso pena io ce l'ho provata per queste persone ci ho preferito per provare pena piuttosto che farmi mangiare dalla rabbia che non mi avrebbe poi concesso di parlare con tranquillità di mio figlio le tue parole sono molto cara rock and safe perché tante volte ci chiediamo no quando succede un qualche cosa così nefasto andiamo sempre alla ricerca del cattivo in realtà molte volte non si parla di cattivere non è un omicidio preterintenzionale è un omicidio colposo quindi le tue parole superficialità incuranza sono sono un qualcosa che sono una lama tagliente perché poi è appunto quello che non che appunto valgano cioè sono responsabilità gravi dove appunto con queste occasioni come l'intervista a te noi cerchiamo di di aprire gli occhi e anche gli orecchi a chi ci ascolta perché poi da tutto per scontato che tanto non succede niente no magari in 80 anni non lo so ma non avranno avuto magari gravi infortuni questa è solo una supposizione no no hanno avuto degli infortuni diciamo di molto molto gravi insomma mortali assolutamente no ecco quindi quando ci dicevamo appunto le cose non succedono fino al giorno in cui succedono eh ahimè succedono soprattutto se c'è un'incuria di quello che è il rispetto della vita delle persone ecco eh gravi gabri nel cuore nasce in questo contesto dalla tua energia di madre e addirittura vengo a sapere in questo momento addirittura poi esperta in sicurezza oggi e gabri nel cuore ci provo ci provo conosci rice della materia bene bene ma è bellissimo guarda eh il fatto che eh tu sia in aula a formare le persone con la tua esperienza è sicuramente eh un qualcosa di bello perché ok fare la formazione ma poi la formazione deve avere una sua qualità e anche una sua parte io lavoro molto sulle sulle scuole sulle sui ragazzi in PCTO quindi con la testimonianza porto la testimonianza di Gabriele e una sensibilizzazione a una cultura eh della sicurezza e intesa come un qualcosa che loro dovranno trovare nel mondo del lavoro quando si affacceranno quindi eh il pensiero è proprio di agire su eh sui piccoli per arrivare ai grandi eh l'investimento che facciamo nel futuro e del resto insomma eh andiamo a fare i colloqui dove se lo possono permettere chiedono le condizioni di smart working o altro chiediamo anche le condizioni di sicurezza eh perché poi è importante quindi l'attività propedeutica che fai te è importante quindi mi viene da pensare sicuramente il progetto Gabriele nel cuore si occupa di questa attività nelle scuole e raccontaci dici allora Gabriele nel cuore viaggio a pari passo con l'ANMIL che è l'associazione nazionale ciao bene saluta assolutamente sì per cui devo a loro questa finestra che mi si è aperta enorme che ormai è diventato un vero portone di curiosità e preparazione perché mi ha concesso di di addirittura di diplomarmi lo scorso anno quindi sono eh una maturanda fresca e ora sto proseguendo con tutti i corsi tra cui quello della testimonianza eh proprio perché poi ti rendi conto che una storia eh non è sufficiente per arrivare tante volte alla gente ma bisogna saperla raccontare bisogna saperla eh edulcorare dipende dai dai dalla platea che hai davanti quindi l'incontro con le scuole sicuramente eh avrà una versione eh di mamma di mamma verso i ragazzi perché io poi concludo sempre col dire eh non guardate al fatto che posso essere stata brava nell'esporre questa storia guardate la mamma che non vorreste mai che fosse la vostra mamma un giorno a fare questo mio stesso lavoro chiamiamolo così eh poi nelle aziende invece hai un rapporto più più diciamo più alla pari anche lì c'è la gioventù ma è una gioventù già più consapevole quindi eh racconti veramente la storia racconti veramente particolari e e soddisfi le curiosità delle delle persone eh che magari puoi capitare anche in un luogo dove c'è una macchina che è più o meno svolge lo stesso lavoro in cui è rimasto incastrato Gabriele quindi ecco è importante come ci hai appena raccontato che la stessa storia in base a poi gli interlocutori eh deve avere una connotazione e il fatto di associare il tuo ruolo di madre con quello che potrebbe essere la loro la loro madre sicuramente avvicina molto i giovani a a una storia una storia del genere se non la sentiamo come il mondo del lavoro siamo ancora a scuola ci pensiamo no no ma poi eh suscita il loro che è eh è bellissimo perché poi eh è come se fosse arrivata in un in un doppio obiettivo no alcuni di loro mi dicono sa che lei mi ha fatto pensare che io ho una famiglia a casa e questo è stato molto importante unire la sicurezza e l'affetto e quindi essere arrivato allo stomaco al cuore di questi di questi ragazzi che molti piangono assolutamente soprattutto le femminucce sono più sensibili ma i maschietti piangono uguali quando si toccano le emozioni non c'è non c'è stesso che veniamo con tutti coinvolti naturalmente con tanta dolcezza con tanta eh insomma con tanta preoccupazione guardi i ragazzi negli occhi per vedere fin dove puoi andare fin dove puoi soddisfare la loro curiosità e e poi appagante io io il mio scopo di portare Gabriele ovunque lui non possa più eh a livello terreno arrivare eh per me è pesante effettivamente perché poi sei una sorta di sacco vuoto che torna a casa eh continuare a raccontare la storia e di riaprire questo cassetto molto pesante però appagante perché poi tutto l'affetto che che mi viene ritornato gli abbracci dei ragazzi è impagabile impagabile assolutamente sì con una consapevolezza non matematica ma probabile che quando appunto dialoghiamo con le persone suscitando emozioni beh chissà magari un giorno eviteranno di farsi male proprio perché si sono tatuati addosso quelle parole quelle sensazioni e quindi quella consapevolezza hanno una storia da raccontare no racconteranno poi loro volta verrà raccontata quindi credo molto in questo del contagio guarda qui a rock and safe siamo una bellissima community a cui ti invitiamo eh di farne parte perché tutti insieme io dico sempre goccia dopo goccia formiamo un'onda e un'onda che avanza non si può fermare perché contagiamo chissà quante persone un'ultima battuta quindi eh per essere oggi cos'è la sicurezza eh per me la sicurezza è avere eh quel pensiero in più e non in meno quando facciamo le cose tutte da lì da come ci svegliamo al mattino e quindi non basta essere grandi non basta essere formati eh bisogna che ci prendiamo un pochino più cura di noi eh non scendere a compromessi con nessuno perché se un un lavoro non è per te non lo senti per te non lo fare ce ne sarà un altro che ti aspetta eh io ho un altro figlio e che sta cercando lavoro e dopo aver fatto l'università dopo aver fatto il master dopo essersi formato poverino in tutto e per tutto è ancora qui a casa 26 anni e quindi gli dico va bene Gio non questo colloquio non è andato bene non era per te non devi accettarlo per forza forse mi dirai lo dici perché eh ne hai perso uno e paura di perdere un altro lui farà un lavoro completamente diverso no? Lui è lavorato in comunicazione e di conseguenza sicuramente non andrà a a a contatto con una macchina che che vernicia la lamiera però un pericolo è ovunque quindi è pericolo di eh andare a lavorare in un posto perché anche lo stress è un pericolo esatto è stato mi ha anticipato la sicurezza psicologica quindi ambienti tossici dove eh che comunque eh impattano sulla nostra salute ci fanno uscire stressati guidiamo più stanchi assolutamente no da non sottavoltare essere grazie tantissimo per la testimonianza io ti propongo qui eh davanti a tutti di essere ospite anche dal vivo in qualche occasione dei nostri eventi perché insomma delle mamme rock in questo modo ne abbiamo bisogno in questo paese e per noi insomma il quel lavoro che fai è un contributo bellissimo non possiamo che accoglierti in questa grande famiglia rock con un immenso piacere essere allora è una promessa ci vediamo prima assolutamente ok grazie mille ciao grazie a tutti eh Esther come altre persone abbiamo conosciuto via rock and safe hanno portato a loro bellissima testimonianza eh con e con la sua energia che si porta con sé Gabriele eh bellissimo questo questo progetto queste iniziative di sensibilizzazione e nelle scuole e con gli adulti ricordiamo di Gabriele Gabriele di guida a venticinque anni non è più tornato a casa è un qualcosa che eh non non vogliamo poi a prescindere dall'anagrafica però qualcuno ci aspetta sempre a casa e non vogliamo per fare questo dobbiamo per ottenere questo dobbiamo migliorare migliorare tanto penso che sia inutile noi non siamo un rotocalco dove parla di di cronaca quindi insomma conoscerete già la sua storia la potrete trovare sul web di proposito non siamo voluti andare eh nel dettaglio quello che noi conta è vedere eh una luce una luce in fondo a un tunnel perché quando parliamo di così tanti infortuni e morti stiamo parlando di un tunnel e eh è bello fare questo viaggio intraprendere questo viaggio con tante persone come Esther Intini eh convinte che si possa tirare il fuori il meglio di noi noi ci vediamo la prossima settimana di stay safe B rock